Ciao a tutti! Di cosa ci parla il Vangelo di oggi, 29 luglio? Innanzitutto il Vangelo di oggi ci riporta alla memoria liturgica ed è la memoria dei Santi Marta, Maria e Lazaro. Sappiamo che sono tre fratelli, sappiamo che sono amici di Gesù e il Vangelo ci riporta due episodi molto importanti alla presenza di Gesù, di Marta, di Maria e di Lazaro. Ma ascoltiamo il Vangelo di oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risorgerà. Gli rispose, Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Questa pagina di Vangelo è bellissima perché ci mette dinanzi tantissime verità. Intanto il valore della fede. Poi segue il valore dell'amicizia. Poi segue l'importanza della preghiera. E poi segue l'importanza dell'obbedienza. Marta ha una fede grande. Ha una fede che sfida anche la stessa morte. Perché Lazzaro è morto. Il Vangelo inizia che molti andarono a casa di Marta e Maria per consolarle per il fratello. Era morto. E allora udirono che Gesù era in viaggio verso casa loro. Marta è quella indaffarata, è quella preoccupata. Lo vedremo anche in un'altra pagina di Vangelo. Ma Marta è quella che ha una grande fede. Se tu fossi stato qui, mio fratello, non sarebbe morto. Questa è la richiesta e la fede di Marta. E qui, in questo Vangelo, c'è una rivelazione potente. Dice Gesù Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morirà in eterno. So che dovrà risorgere, risponde Marta, perché la preghiera è anche dialogo. La preghiera è anche conquista. No, vi ricordate quell'altra pagina di Vangelo quando quella donna cananea va da Gesù per chiedere la guarigione per la figlia e Gesù la mette alla prova dicendo non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Lei mica si ferma, mica ha paura, mica si arrende. Sì, è vero, mio Signore. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole di pane che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù dice La tua fede ti ha salvata. E anche qui Marta non si arrende. E poi sappiamo che Gesù dice Dove l'avete portato? Fatemelo vedere. Va alla tomba, fa togliere la pietra e grida dopo aver pregato Lazzaro viene fuori. Allora qual è il grado della mia fede? Qual è il grado della mia preghiera? Cosa credo? E cosa prego?